Sono arrivati i 96 milioni che toccheranno soprattutto i comuni per le sue urgenze, le famiglie e le imprese. Sono primi ristori che cercheranno di far ripartire tutta la zona duramente colpita dai drammatici eventi del 15 settembre. Sarà una fase anche molto burocratica perché la distribuzione di queste risorse presuppone un lavoro enorme dal punto di vista dei comuni, della regione, della protezione civile e di tutti gli enti interessati. È chiaro che subito dopo, già oggi, stiamo lavorando per le fasi successive che sono quelle della messa in sicurezza e gli ulteriori ristori ai soggetti più colpiti. Sono fasi delicate che si accavalano, che presuppongono anche un grande lavoro ma devo dire che a cinque mesi e mezzo dai drammatici eventi siamo oggi a raccontare una fase di ricostruzione che può diventare tangibile a breve. C'è una soddisfazione perché la situazione è stata veramente molto pesante per tanti comuni anche dal punto di vista proprio burocratico, oltre che dal punto di vista umano e per quello che è accaduto. Devo dire che c'è consapevolezza e responsabilità rispetto alle azioni da mettere in campo per dare risposte a famiglie e imprese e soprattutto di prospettiva ai territori perché questi territori con le continue allerte a meteo e con i continui anche ripercussioni che si sono avute rischiano veramente di vedere preclusa la loro competitività, la loro attrattività e anche la loro capacità di far vivere tranquille le comunità residenti. Quindi siamo determinati, credo che le azioni che stiamo mettendo in campo sono tantissime e già nelle prossime settimane si parla della progettazione di altre due vasche, della sistemazione delle strade, dei ponti. Sono tante iniziative tutte volte a dare una risposta concreta e anche di prospettiva.